Atleti disabili visivi provenienti da diverse regioni italiane formati alla scuola di vela di Omeros gareggeranno da domani a domenica nel Golfo dei Poeti per contendersi il titolo con gli allievi della nuova scuola di Due Colori nel Vento, la giovane associazione spezzina che ha già formato nuovi atleti velisti non vedenti pronti ad dare battaglia. Da domani quindi equipaggi formati unicamente da atleti non vedenti si sfideranno secondo le regole del match race una tipologia di regata velica resa famosa dalle barche delle americas caps. Si tratta della terza edizione del trofeo Omeros Golfo dei Poeti che quest'anno ha per due colori nel vento un significato speciale in quanto sarà intitolato a Claudio Valle uno dei primi istruttori Omeros proprio coloro che sul lago di Garda hanno dato vita a un metodo che ha fatto la storia in tutto il mondo fino ad oggi. Io penso che non ci sia una cosa più incredibile e difficilissima da spiegare quella che prova un non vedente quando si trova al timone della barca e riesce a timonarla, riesce a portarla a barca. È veramente una sensazione di indipendenza, non so niente a che spiegarla però viene proprio la voglia, la necessità di farla questa cosa e direi che per quel che riguarda i non vedenti insegna, per dire anche io che sono una persona molto autonoma però insegna veramente l'autonomia, insegna a gestirsi, insegna a prendere delle decisioni. La scuola di mare di Santa Teresa ormai da più di due anni è partner di due colori nel vento avendo messo a disposizione la struttura logistica necessaria allo svolgimento delle attività didattiche e agonistiche della scuola Omeros Spezzina. Due colori nel vento da parte sua contribuirà mettendo a disposizione degli atleti la competenza dello staff degli istruttori Omeros Spezzini, le due imbarcazioni meteo necessarie, oltre alle buoi sonori indispensabili per l'allestimento del campo di regata per non vedenti, attrezzature che, dopo i tremendi danni subiti con la mareggiata dell'ottobre scorso, l'associazione ha potuto ricomprare e che sono disponibili grazie al sostegno della società Asi Fitness & More di Roma che ha contribuito allo sviluppo del progetto Omeros e dalla crescita nello sport dell'autonomia delle persone affette da disabilità visiva.